Il calcio è la metafora più fedele della vita, copyright condiviso fra il filosofo Jean-Paul Sartre e lo scrittore e poeta Vladimir Caminiti, che comunque prediligo e prediligerò sempre. Insomma, dentro quella sfera di cuoio che rotola imperscrutabile, vi è una sorte atroce e bellissima, proprio come l'esistenza di ognuno di noi. Ora, da decenni, la nostra città si può definire la capitale della versione miniature di questo sport universale, in tutte le sue versioni. Non è un caso che il futsal, maschile e femminile, proprio qui abbia raggiunto vette eccelse, ma non è di questo che qui si tratta. Quello a 7, poi, si traduce in pugni memorabili e campionati straordinari. È dunque di un torneo amatoriale giunto ormai alla sua sesta edizione, l'Over 30 Lilò, che vogliamo parlarvi. Cosa ha di straordinario, oltre all'elevato valore calcistico dei pedatori protagonisti, nonostante l'anagrafe, questa manifestazione ideata e realizzata dall'istituzione Lino Giampalmo e dal magnanimo e vulcanico professor Giuseppe Urbano, è presto spiegato. Con la collaborazione di alcune realtà operanti sul territorio, come la Fidas e alcune imprese generose anziché no, hanno abilitato l'aggettivo amatoriale secondo l'etimo più lucente. Ci è stato chiesto perché non raccogliere una piccola quota extra campo o fare una raccolta di viveri o di indumenti per squadra in modo da ottenere poi una sorta di monte premi solidale da devolvere a chi ne ha più bisogno e io e il mio socio organizzatore abbiamo subito presso la palla al balzo e abbiamo accettato. Questa volta in campo è scesa anche la solidarietà e noi come Fidas insomma siamo molto vicini a qualsiasi forma di solidarietà e quindi di iniziativa, non potevamo insomma esimerci dal partecipare anche a questa iniziativa lodevole. Sì, questa kermessa andata in scena nello splendido teatro del Bellavista Soccer, anche il grande Antonio ha contribuito, tra l'altro, ha tradotto in concreto l'amore inteso come filantropia nel senso più alto del termine ed ha trasformato quote di iscrizione e offerte varie in una montagna di indumenti, viveri e genere di prima necessità, oltre che di danari, destinate a migliorare le giornate, certo grame, dei più bisognosi. L'idea era proprio questa, approfittare anche delle amicizie personali e della conoscenza in città che c'è di questo torneo. Sicuramente questo periodo di pandemia ci ha scosso un po' e ha fatto sicuramente in modo che ognuno di noi avesse un po' più a cuore le esigenze dell'altro. Ho conosciuto delle persone che, come me, la solidarietà la intendono a 360 gradi, perché quando fai bene al prossimo, chiunque esso sia, è una cosa bellissima. Insomma, sono prestigiatori della beneficenza, questi bitontini che per diletto continuano a tener calcio ad un pallone a forma di cuore.